E' stata inaugurata al CEF PAS la scuola di formazione specifica di medicina generale per l'anno 2021-2024. La scuola è una struttura didattica affidata dalla Regione al Centro Nisseno di formazione sanitaria con l'obiettivo di garantire una maggiore qualificazione professionale del medico e migliorare l'organizzazione e il sistema di erogazione delle cure primarie garantendo maggiore qualità a livello di salute e benessere della popolazione. Hanno parlato ai neolaureati provenienti da tutta la Sicilia, medici, dirigenti esperti della medicina generale e del territorio raccontando l'impegno del medico di famiglia. Nell'importanza abbiamo la figura di un medico che deve essere sicuramente competente e quindi deve conoscere il modello biomedico, deve conoscere le indagini, deve essere un medico colto, ma è un medico di prossimità, un medico che privilegia allo stesso tempo la vicinanza, la prossimità, il prendersi cura del paziente e non soltanto il curarlo. Un medico che è sempre disponibile, un medico che è vicino al paziente e che il paziente trova quando lo cerca, magari quando lo cerca per cose importanti, non per banalità, non per la prescrizione di una ricetta ma perché non so se andare in pronto soccorso oppure no. La scelta di diventare un medico di medicina generale raccontata da uno degli studenti della scuola. Sicuramente essere in prima linea con i nostri pazienti, con tutto il territorio per aiutare, per instaurare questo rapporto medico-paziente ed essere utile per il prossimo, cercando di essere essenziale per punti di riferimento per i nostri pazienti. Riparte così la formazione in presenza in aula, in un'aula tra l'altro strapiena di studenti. Tra i progetti in itiner al CEF passa anche la scuola di laparoscopia che sarà realizzata in collaborazione con l'ospedale Garibaldi di Catania. Per noi è un grande orgoglio poter ripartire in presenza a 19 edizioni su tutto il territorio regionale. Oggi ci sono gli studenti del terzo triennio, ovvero 21-24, oltre 220 partecipanti e la regione siciliana con il CEFAS e la scuola di medicina generale è di fatto la prima regione in Italia per numero di partecipazioni e numero di aule. 19 aule in presenza sono sicuramente in epoca ancora, purtroppo di coda pandemica, un ottimo risultato per noi e per tutto il territorio regionale.